. Taylor Swift, boom di nomination agli MTV EMA 2017 Che fosse tornata con botto si sapeva e infatti ha fatto il pieno di nomination agli MTV EMA 2017, Taylor Swift è in definitiva la star di quest'anno. . Che successo, Taylor Swift? Sono uscite le nomination degli MTV EMA 2017 e come immaginato Taylor Swift è stata la regina di quest'evento. . La cantante di Look What You Made Made Oh è stata nominata nelle categorie Best Artist, Best Look, Best Pop, Best Video, Biggest Fans e ovviamente non potrebbe essere più soddisfatta. . 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 Voglio dire, io non sono Buddha, certe cose mi irritano. Mi piacebbe poter porgere l'altra guancia ogni volta ma non sono un avversario facile, lo sai? Soprattutto quando qualcuno cerca di assassinare il mio personaggio con i fan. In tutta risposta, Taylor Swift ha rilasciato la sua musica su Spotify lo stesso giorno dell'uscita dell'album di Katy Perry, Vitness, cosa che ha fatto passare in secondo piano il nuovo disco della cantante. Che a quel punto ha fatto marcia indietro e ha detto che ha sempre amato Taylor Swift. Gli indizi di Ed Sheeran. Che qualcosa stesse bollendo in pentola con Taylor Swift, si sapeva già da tempo. La cantante era scomparsa dalle scene da diversi mesi, ma il suo migliore amico Ed Sheeran aveva già avvertito i fan che Taylor avrebbe rilasciato un album verso il periodo di Natale, quello migliore per le vendite. E infatti uscirà il 10 novembre giorno tra l'altro della morte della madre di Kanye West ma quello, dice, è stato un caso fortuito. .